Comunicato congiunto delle televisioni locali Telemolise, Teleregione e Teletrigno. Le emittenti private molisane protestano contro la legge per l'editoria che il Consiglio regionale vorrebbe approvare nei prossimi giorni. E tanto più forte la forma di protesta, quanto più la legge in via di approvazione è inutile, iniqua, confusa, non commisurata alle reali esigenze di un settore che tutti, meno il governo regionale molisano, riconoscono di vitale importanza in una società moderna. Una legge che lascia fuori i settori trainanti del mondo dell'informazione, realtà storicamente consolidate, aziende con decine di dipendenti regolarmente assunti e con importanti margini di sviluppo e di nuova occupazione, se solo fossero sostenute con misure economiche chiare e interventi efficaci. Il Consiglio regionale del Molise si appresta invece a discutere un testo inutile, già licenziato in giunta e già approvato in quarta commissione consigliare, che con vincoli e costrizioni illiberali penalizza proprio le principali realtà editoriali, quelle che hanno rispettato le regole, hanno pagato le tasse e hanno stipulato contratti di lavoro secondo le piattaforme riconosciute dallo Stato italiano. Una legge partorita da una classe politica miope e ripiegata su se stessa, che quanto più tema il pluralismo e la libertà di informazione, tanto più dimostra la sua debolezza, la sua coscienza sporca e il suo terrore di essere incalzata e valutata, soffocando un diritto fondamentale universalmente riconosciuto come indicatore privilegiato del grado di sviluppo e di civiltà di una nazione. Grazie Grazie